Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi sono in compagnia di mia moglie, eccola qua, e stasera ci facciamo la prima avventura delle fiabe di stoffa. Ormai mi viene sempre da chiamarlo Stoffini e mi ci blocco anche. Comunque facciamo la prima avventura delle fiabe di stoffa, anche per farvi vedere un po' come funziona il gioco. Tanto l'avete già visto nella recensione, qua giù abbiamo il sacchettino con tutti i dadi, le schede dei personaggi che ne abbiamo scelte due a testa, e poi qui davanti abbiamo messo il mazzo delle carte storia, che ricordo non vanno mai mescolate, il mazzo delle carte ricerca e equipaggiamento, che nella prima missione non ci dovrebbero essere, comunque vediamo, le carte risveglio, e poi tutte le altre carte, le carte status, le carte smarrito, e tutto l'altro che potrebbe servire. Ora, iniziamo a leggere il primo paragrafo, che è il letto da bimba grande. La mamma e il papà si scambiarono uno sguardo nervoso, mentre osservavano la loro figlia arrampicarsi sul suo nuovo letto, da bimba grande. Era un bellissimo letto color viola e azzurro, con una magnifica testiera, e la piccola se n'era innamorata fin dal primo momento che l'aveva visto. Non sono un lettore, eh, faccio subito presente. Lo avevano trasportato a casa in un enorme scatolone, e il papà aveva passato il pomeriggio in garage a montarlo. Lei ci aveva già fatto il riposino un paio di volte, ma quella era la prima notte in cui avrebbe detto addio alla culla. Quel giorno, quando il papà aveva smontato la culla, la mamma aveva pianto un po'. Anche la bimba si era sentita stranamente triste, mentre vedeva il papà riporre in soffitta la culla smontata, ma ella era grande adesso, e quella era proprio un letto da bimba grande. I genitori le rimboccarono le coperte, e il papà le accarezzò i capelli mentre la mamma, con un nodo in gola, le cantava una dolce nina nanna. Quando se ne andarono in punta di piedi, lasciarono uno spiraglio aperto nella porta della cameretta, e dentro la stanza ogni cosa si fermò. Il respiro della bambina rallentava, l'orologio a forma di gatta appeso al muro faceva tic-tac. Tic-tac. Una a una, le luci nella casa si spensero, e poco dopo anche mamma e papà andarono a letto. Tic-tac. Teodora Staffins si alzò a sedere sul letto un uovo da bimba grande, e stiracchiando si osservò meravigliata i dintorni. Cos'era successa la culla? Si strofinò gli occhi di vetro e si fece più vicina, per assicurarsi che la bambina stesse dormendo profondamente. Dove siamo, Thea? chiese una voce scoraggiata. Dove sono finite tutte le sbarre? Lampi, l'elefantino di peluche, si guardò attorno con ansiosa preoccupazione. Non lo so, Lamp, rispose Adora. Flops atterrò in mezzo a loro con un risolino, le lunghe orecchie che sbatacchiavano per aria. A me piace, dichiarò Flops. È bello e rimbalzello. Flops, si bilotte Adora, smettila di saltellare. Sai che non devi farlo. Dunque alla fine è accaduto, disse il signor Stitch. Si girarono tutti i vesti il vecchio pupazzo malandato che arrancava verso di loro. Stitch aveva già svolto servizio per la mamma della bambina durante gli anni della crescita. Zoppicava e aveva gli occhi a bottone uno diverso dall'altro. Ma gli altri più pazzi adoravano quel bambolotto vecchio e saggio. Che cosa è accaduto, signor Stitch? chiese Teadora. Il momento è giunto, disse Stitch. È per questo che ci siamo arrolati. Finora siamo stati semplici compagni, mentre la nostra giovane padroncina era protetta dalla magia della sua culla. Ma da stanotte lei dorme in un letto da bimba grande. Pertanto comincia il nostro vero dovere. Lui verrà per prenderla e proteggerla toccherà a noi. Chi è che verrà, signor Stitch? Crepitus, il re degli incubi. Manderà i susseguaci per questa dolce bambina e solo noi saremo in grado di difenderla. Al solo pensiero, il petto del vecchio pupazzo si gonfiò di orgoglio. Crepitus, riflettette Adora. Non credeva esistesse davvero. Non potremmo pagare qualcun altro che lo faccia, bisbigliò Lampi? Così sarebbe molto più sicuro. Credo che sarebbe saggio, suggerì Stitch, dividerci e perlustrare la casa in cerca di rifornimenti. Sei d'accordo, Thea? Mi fido del suo giudizio, signor Stitch, disse Teadora. Faremo così. 5.1 Il terrore che striscia. Il narratore legge ad alta voce. Uno dopo l'altro, i pupazzi scivolarono giù dal letto e uscirono in punta di piedi dalla cameretta, stando attenti a non fare il minimo rumore. Ma mentre si muovevano nella grande casa buia, un minaccioso bagliore violaceo cominciò a prendere forma sotto il letto da bimba grande. E da quel bagliore uscirono lunghe zampe dal ragno. Ogni giocatore cerca nel mazzo degli oggetti, quindi di questi qua giù, un'arma a sua scelta, con la parola chiave CUCINA O STUDIO. E l'equipaggio al suo personaggio. Quindi vediamo un po'. CUCINA O STUDIO. CUCINA O STUDIO. Ok, lei ha scelto due armi da corpo a corpo, mentre io invece ho scelto la mannaia che è da corpo a corpo e gli elastici che sono da distanza. E l'equipaggio almeno l'abbiamo fatto. Ora, ben attrezzati, gli stoffini tornarono nella cameretta della bambina. Ma quando spinsero sulla porta per aprirla, si trovarono di fronte a una scena spaventosa. Una moltitudine di creature con le zampe dal ragno correva per tutta la stanza. Ma non erano ragni. I loro corpi erano grossi come gatti e le zampe spuntavano dalle teste di vecchi bambolotti. I tante zampe sono arrivati in anticipo, gemette e stitch. Guardate quella luce, esclamò Teadori, indicando la spettrale, luminescenza viola. Vengono da sotto il letto. Quindi l'area di gioco principale della prima avventura è la stanza della bambina, la stanza con letto da bambina grande. Prendete un numero di miniature e carte tante zampe pari al numero degli stoffini in gioco. Quindi prendiamole. Collocate le carte tante zampe. Quindi ogni giocatore colloca la miniatura del suo stoffino sulle caselle contrassegnate. Si parte da qui, quindi mettiamo le tipo adiacenti. Vai, te metti la sinistra e io... Allora, alla rivestia. Scusa, visto che sei di qua, metti tre di qua. Così ci arrivi meglio. Io le metto qui. Vai, la nostra squadra è fatta. Poi, questi due qui sono di mia moglie, questi qui sono miei. Quindi, se alla fine del turno di un qualsiasi giocatore il numero di dadi sull'indicatore minaccia è pari o superiore al numero di tante zampe ancora in gioco, i mostri svolgono un turno. Poi, quando tutti i mostri vengono sconfitti, ogni stoffino ottiene un cuore. Ok? Quando tutti vengono sconfitti. Quindi una volta che sono morti tutti e quattro, ricordiamoci che quello col simbolo tondo, che è questo qua giù dietro, questo qua giù è il boss. Tutti quegli altri sono normali. Ok? Quindi la missione è sconfiggerli tutti. Prima di tutto, cos'è quella lì? Ah, vabbè, non ho tanto il turno, te lo riscrivo io. Le azioni che si possano fare. Ti mescola questo, così. E ne peschi cinque. Cinque a caso. Cinque a caso e le metti qui che si vedano. Ok, ora il resto rimetteli qua giù. Questi qui sono i dadi che hai te nella tua riserva per questo turno, ok? Ricordiamoci una cosa. Quando ne usi uno è lo scarti, no? Mettiamoli tipo qui. Ok? Sia i miei che i tuoi, perché la riserva è di tutti. Uno è di uno, cioè la riserva degli scarti. Ora, il dado questo, rosa, che poi lì dice viola, non so perché, il dado rosa lo puoi convertire in qualsiasi colore. Ok? Ovviamente non bianco e nero, perché quelli sono una cosa a parte, però lo puoi convertire in qualsiasi colore. Il dado blu non fa niente di particolare, vedi c'è scritto laggiù. Non ha abilità particolari, però magari se c'è una prova che ti dice tira dadi blu, il dado blu serve per quella prova lì. I dadi verdi sono per gli attacchi a distanza, i dadi rossi sono invece per gli attacchi in corpo a corpo. Ora, te le azioni che puoi fare, la prima cosa che puoi fare è, questo lo devi levare, perché neri vanno dei mostri, no? Bianchi invece vanno alle imbottiture. Ora, te questo dado bianco, la prima cosa che devi fare, lo devi tirare e se fai pari o superiore all'attuale imbottitura che c'hai, ne guadagni uno in più. Niente. Quindi questo lo scarti e lo metti laggiù, si fa un coso degli scarti, ok. Ora te puoi fare tutte le azioni che ti pare finché c'è dadi, no? Allora, col dado verde puoi fare un'attacca a distanza, però non hai armi a distanza, ok, perfetto. Quindi attacchi a distanza non ne puoi fare, perché per farlo, attacchi a distanza giustamente devi avere anche le armi, gli stoffini non è che attaccano a pugni, capito, no? Però no, no, non lo devi togliere, questi qui li tieni qui. Ora, per muoverti in questo gioco te devi tirare qualsiasi colore che ti pare a te, uno o più dadi, no? Qual è la differenza? Che se tiri un dado puoi fare da 1 a 6, se invece ne tiri 2 puoi fare molto di più, capito? O potresti fare fino a 12 e per ogni risultato che fai ti muovi di una casella. L'unica regola è che, almeno nella prima missione che è facile, vedi, ci sono alcune zone che sono delimitate da un colore verde. Vuol dire che te per muoverti in una di queste zone, perché tipo su mobili devi salire sopra, devi usare per il movimento il dado verde, ok? Quindi te potresti lì, io ad esempio con lui voglio andare sul letto, sono 1, 2, 3, 4, 5, ce la faccio, ho fatto 5 o più solo col dado verde. Allora, sai che c'è? Ne uso 2, uno blu e uno verde, capito? Tanti dadi li puoi usare per muoverti tutti, per combattere no, o verdi o rossi. Quindi te in questo caso, se tu volessi andare a fare un combattimento corpo a corpo, non lo potresti fare, a meno che non cambi questo. Quindi ricordiamoci, la missione è abbattere loro. Allora, però le azioni che ho sono... Ora pesco anch'io, ti faccio vedere, perché all'inizio bisogna pescare tutti, però prima ti muovi tuoi e poi muovi me, i miei. Allora, io ho fatto 1, 2, 3, vedi? È uscito un dado nero, ora ti faccio vedere. E l'ho preso uno rosso. Quindi, con questi dadi che sono usciti, il nero lo metto qua giù. Ok? Quindi collegato al leader. Quindi per forza di cose il leader si muoverà. E poi anch'io ho questi, che me li userò ovviamente nel mio momento. Vai, vai pure, fai le tue azioni. Ricordati che la missione, purtroppo, ora come ora, non puoi cercare, non puoi fare niente, eh? Perché, lo vedi, non ci sono obiettivi sulla mappa, disegnini. Mi tocca soltanto muovermi e andrà... La prima missione è di botte, sì. La prima avventura è di botte. Io decido di usare... Perfetto. Questo è tagliato male, vabbè. Dato verde, dato blu. Hai fatto bene. Sei. Chi muovi? Muovo Teadora. Vai, quindi. Ti puoi muovo anche in diagonale? Ah, 1, 2, 3, 4. 4. Ti fermi lì o puoi provare anche a fare un attacco corpo a corpo, visto che ci sei. Vanno ammazzati. Allora, 5. 5. E provo ad attaccare. Scartati laggiù. Ora, per attaccare, te i dadi rossi non ce n'hai. No, però cambio il colore di questo. Ok. Qualcuno di loro, come abilità qui, c'ha qualcosa che ti dice, può ritirare un dado rosso o un qualsiasi colore? Teadora cosa dice? Allora, una volta per turno, quando svolgi un turno con Teadora, puoi scambiare uno dei tuoi dadi a tributo. Quindi i dadi a tributo sono... Questi, questi, questi qui. Ok, i jolly. Eh. Jolly con un dado a tributo nell'area degli scarti. Ok. Allora, se vuoi scambiare uno di quelli con uno di quelli, lo potevi fare e fare un attacco a distanza. Allora, te vai ad attaccare un mostro che è quello... Ah, ragazzi, guardate una cavolata, però, Bellina, che hanno fatta. Vedete, le basi dei mostri sono diverse. Perché ciascun mostro è collegato alla sua carta. E c'è il simbolino, almeno lo riconosci. Ti sta attaccando quello con questa base qui. Perdonate l'ignoranza, osè, è tipo esagonale, sì. Esagonale, questa qua giù. Quindi, ora, il mostro che te vai ad attaccare, ok? Ricordati sempre che i mostri che te attacchi hanno un punto ferita. Tutti i mostri. A parte i boss che hanno tanti punti ferita, quanti sono gli stoffini che sono in gioco, no? Ora, te, per attaccarli, il problema è che per colpirlo devi fare cinque o più. Allora, l'abilità dell'arma mi dice, quando effetti un attacco in mischia, quindi col dado rosso, aggiungi uno al risultato di ogni dado rosso. Sì, però c'è un problema. Che non è un dado rosso. Ma lo posso cambiare? Sì, ma non è comunque un dado rosso. Quella funziona solo con i dadi rossi. Il dado viola è convertito, ma non è un dado rosso, è sempre un dado viola. Vabbè, comunque, attacchiamo questo coso. Quindi, cinque o più, eh? Cinque o più. Due. Due. Allora, manca quello lo scarti. Cosa ti è rimasto? Un dado, mi sembra. Un blu. Un blu. Ora, te, per fare una cosa, o questo blu lo scarti, perché non puoi tenerli davanti al tavolo, non servono a niente, no? Però ora c'è un problema. Il problema di ora è che te... No, posso scambiare il mio dado attributo, lo posso riscambiare con uno di questi. Usando la sua abilità? Sì. Sì. Quindi, infatti ti dico, o rifai un altro attacco, ok? Quindi, o rifai un altro attacco che l'attacchi un'altra volta e provi a buttarlo giù, o se no, questo dado lo metti qui e lo conservi. Da, lo metti lì. Conservandolo puoi fare una cosa. Te lo tieni per il turno dopo. Così dici, nel turno dopo sono sicuro che almeno un attacco lo faccio, no? Oppure, quando è il turno dei mostri, perché ti attaccheranno se hai corpo a corpo, puoi tirare una difesa. Se non hai difesa, il mostro ti becca, punto e basta, e ti fa danni. Allora, lo metto da parte, via. Ok. Ora, una cosa che mi sono dimenticato prima, ma ovviamente tanto si può fare anche ora, correzione. Quando iniziate il turno dovete pescare 5 dadi, sì, ma per ogni stoffino. Quindi a T5 ne devi pescare. Per il secondo, capito? Dividili, eh. Perché questi sono suoi, quelli sono suoi, capito? Dividili. Quindi anche io i miei... Oddio! Io primo muovo lampi. Bene, 3 dadi neri. No, amore. Allora, i 3 dadi neri, senza tirarli nel niente, li mettiamo qua giù. Perfetto, così si attivano tutti i mostri. Ebbene, non c'ho dadi per flops. C'è qui 2 e basta? Sì. Ora faccio io. No, no, aspetta, aspetta. Flops non è da corpo a corpo, è da tiro. Non c'ha armi. Non ho armi da tiro con flops. Siamo morti. Perfetto. Allora. Guarda, tu 3 bianchi. Un'altra azione che puoi fare, me l'avevo dimenticato, puoi o dare imbottitura a un altro stoffino nel caso sia ferito o se no io posso dire ti serve un dado rossa a te. Sì, vai, ti regalo il mio e te lo passo e te lo metti lì, capito? Allora, e questi qui sono quelli di Stitch. Soltanto che il nero va qui. Quindi quella cosa del nero è tutta piena. Ora, non tocca ancora i mostri perché tocca a te. Te, col dado lì, sicura che lo vuoi mettere da parte o non lo vuoi usare per provare a ammazza uno. Aspetta. Scegli te, eh? Passo, posso passare il dado rosso a te ad ora? Sì, lo puoi passare. Ma solo se mi trovo vicino? No, 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 ovunque. L'unico discorso è però che se te gli passi quel dado, no? A te ad ora? A te ad ora devi scartare quello che c'ha lì, eh? Vabbè, tiro il dado verde con flops per vedere quanto muove. Sì. Se muove di tre, il dado rosso se lo mette in difesa. Sì, me lo mette in difesa. Se lo mette in difesa. Ok, ora, visto che la regola dell'avventura ci dice che se sono pari mostri, pari dadi o superiori a mostri attualmente in gioco, i mostri muovono. Quindi per forza di cose i mostri andanno a muovere. Allora, il primo ti attacca e ti fa... Dov'era il primo? Quello con la base esagonale? No, otto agonale. Eh? Cioè, otto lati. Uno, due, tre. Sei, sette, otto. Allora, visto che tocchi a mostri, ok? Ora andiamo a tirare il dado per vedere le abilità che guadagnano. Quindi, questo è un tre. Poi vediamo questo. Questo è un cinque. Questo è un cinque. Sto facendo gli ottimi risultati per i nemici. Questo è un cinque. Eh, capito, capito. E questo è un sei. Allora, quello che ti attacca a te è un cinque. E da quattro a sei praticamente si muove di tre, fa un attacco, cioè attacca a distanza uno e ti fa quattro danni. Quindi, ora ti devi tirare quello e per ogni risultato che fa gli togli un danno. Cinque. Beh, quindi non solo gli hai tolto tutti, ma ti rimane ancora. Non è sprecato il dado. Ok, quindi lui l'ha annullato. Dopo che questo tante zampe è attaccato, muovetelo di tre caselle verso la casella più vicina. Eh, il problema è quello, che si muove ancora. Quindi, verso la casella. Quindi di così si muove? Sì, però dice, muovetelo di tre caselle verso la casella più vicina, quindi rimane qui. Poi, quest'altro fa uno, perché poi si devono spostare tutti per attaccare lo stoffino più vicino, capito? Lui potrebbe anche attaccarti in diagonale e loro potrebbero scendere e andare verso di qua. Quindi lui ti attacca in diagonale e quello con quella base lì è uno normale, però anche lui fa quattro danni. Quindi tira il dado. Fallo alto, fallo alto. Due. Quindi scartalo. Ti ha fatto due danni, quindi leva due di imbottitura. No! Sì, che la dovresti rigirare di là, ma è uguale, tanto cambia nulla. Quindi, no, no, va bene, va bene, va bene. Dovresti fare così, sì. Ti ha levato due di imbottitura. Ok. Poi tocca... Facciamo il boss, che è quello tondo, che si muove di zero, attacca a distanza uno e fa... Quindi non si muove, però c'ha un'abilità che si chiama chiamare aiuto. Alla fine di questo turno dei mostri, se ci sono uno più carte e tante zampe nella pila degli scarti dei mostri, aggiungetene uno in fondo alla colonna dei mostri. No, perché ne chiamava altri. Quest'altro qui, che è quello con la base quadrata, si muoverà di tre e fa così, fa uno, due e tre. E attacca. Ah, non ci hanno problemi loro a spostarsi sopra e sotto il letto. Possono attaccare, attacca a distanza uno e fa quattro di attacco su lui. Quindi tira il coso. Cinque. Rimettelo lì e l'hanno presa nel ciocco. Ok, turno mio. Ora, col mio turno, prima cosa, io muovo per primo Stitch. Con Stitch, purtroppo, ho tre dadi di imbottitura e soltanto col 5 o il 6 prendo un'imbottitura in più. No, tre imbottiture! Che culo! Il culo! Guarda Stitch! Che culo! Stitch ti spacca un Stitch. Vedi qua giù, a Stitch è rimasto un solo dado per muoversi e poi non posso attaccare. Però va bene, vengo corpo a corpo, vai. Stanto ho un casino di imbottitura. Sì. Allora, quattro, quindi faccio. Uno, due, tre. Questo va scartato. Ora tocca all'elefantino che deve fare 5 o 6. Oh, che culo stasera! Che culo stasera! Ora, visto che lui ha un'arma a distanza, io ho un dado. No, forse è meglio se li uso tutti. Perché almeno uno l'ammazza. Se no, un dado te lo volevo regalare a te. Allora, facciamo una cosa. Tiro il primo dado per muovermi. Ok? E faccio 4. Quindi posso anche non muovermi di tutto. Quindi faccio 1, 2, Arrivo qui, vai. 3. Quindi questo va scartato. E poi tiro il verde per l'attacco a distanza. Ok? O se no... No, a parte no, mi devo fermare leggermente prima perché se no non posso fare l'attacco a distanza. Tiro il verde per l'attacco a distanza con più uno. E il dado viola lo converto. Ok? Però il più uno lo prendo solo sul dado verde. e attacco questo qui col coso quadrato che ha armatura 5. Ok? Quindi ho fatto 4 più uno 5 più 3 è 8. Quindi l'ho colpito e l'ho distrutto. L'ho distrutto e distruggendolo la carta sua viene tolta. Ok? Quindi distruggendolo era quello quadrato che è questo qui. La carta sua, intanto le metto qua giù gli scarti. Poi si guarda con calma dopo perché bisogna fare una pila degli scarti. Togli il suo dado. Non ce l'ho dato dopo nella fase dei mostri alla fine, venga il torno. Quindi l'ho distrutto l'ho ucciso e quando ammazzi un mostro prendi un bottoncino che praticamente sono i soldi del gioco. Anche se in questa avventura qui non ci servono a niente comunque vabbè non si prendono. Quindi ho usato tutti i dadi ho finito non posso più fare niente è fase dei mostri che ora ovviamente i mostri si muovano anche se perché vedi poi no? Alla fin fine i dadi quindi il problema è che ora i mostri svolgeranno un turno. Ok? Perché comunque i dadi che ci sono sono di più rispetto a quelli che sono lì quindi per forza di cose i mostri svolgeranno un turno. E qui loro devono per regolamento attaccare sempre quello più vicino che gli arrivano corpo a corpo quindi quello con base esagonale ti attacca lui Teodora e gli fa 4 danni però la te non c'è dadi per difenderlo. Non è che dobbiamo ripescare ogni volta che... No, no all'inizio ho detto uno e dopo. E allora niente. Quindi Teodora leva gli tutta l'imbottitura e muore. No, 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 no. Finisce svenuto per terra. Il secondo non lo attacca perché il secondo non lo attacca e fa 1 2 che è questo qui e fa 4 danni a come si chiama questo qui? Stitch che non ha dadi quindi però ha tanta vita 1 2 3 4 danni No, rigirai sul tuo coso Ma così li perdi se fai che poi invece te li ricupri Ma tanto sempre da lì devi riprendere quindi 4 danni così 4 danni Ok poi l'ultimo che il boss però chiama rinforzi il problema suo di ora è questo qui no, anzi il leader no il leader invece fa assaltare si muove di 6 quindi fa 1 2 3 4 muoviamolo qui e attacca questo si gira e attacca questo stoffino qui che è Flops e fa 4 danni quindi 2 parati il dado scartalo e 2 imbottiture tolte Ok fine del turno perché non ci sa più niente no, si è fatto tutto fine del turno ora che è finito i dadi si tolgono e si ributtano quelli laggiù no e si ributtano qui dentro pescano i 5 e 5 per i tuoi vai 5 per 1 5 per quell'altro e se finiscono ovviamente si riempie il sacchetto un'altra volta eh quello per forza ok dadi gialli sono per per le ricerche no no per le ricerche sì per le ricerche però ricerche da fare in questa missione non ce ne sono ok quindi questo è quell'altro mi sa che sono finiti eh vabbè prima devi pescare tutti i velli ci sono e poi quindi peschiamo 1,2,3,4,5 quindi altri due dadi neri no e questi sono di stitch e mi sa che sono finiti è normale che per i chiudi di nuovo quelli neri è normale 1,2,3 guarda e il sacchetto è vuoto quindi dopo va riempito a fine quindi 1,2 e questi qui sono di lampi vai tocca a te ah Teodora è svenuta è svenuta però oh non abbiamo nemmeno un dado bianco no quindi Teodora rimane svenuta però posso chiamare un jolly non in bianco o nero in tutti i colori forché in bianco è nero e non va niente e questi gialli visto che non c'è che percezione cosa posso fare non c'è ricerca però cosa posso fare nulla lo usi per muoverti oh no aspetta aspetta lo usi per muoverti o te lo metti in riserva cosa mai faccio della riserva mi uso per difendermi per difenderti sì vabbè qualsiasi colore si usa per difenderti però lui purtroppo non può fare nient'altro comunque quindi lui il tunnel lo salta e nulla perché doveva uscire un bianco non potendo prendere cose quei da di lì vanno scartati non può fare nessuna azione flops attacca il leader e ne usi due quindi ok con quale col cortello che ti dà più uno ma solo sul rosso vai attacca il boss c'ha armatura 6 che poi scusa non è un boss non è un boss ma un leader questa arma può essere utilizzata come arma a distanza con citata 5 ah non è un boss questo qui cioè non c'ha più punti ferita degli altri capito quelle sono particolari c'ha solo un punto ferito 6 e 9 ho fatto di più hai fatto 10 perché questo c'ha il più 1 ah più 1 qui ho fatto 10 10 colpito morto e prendi grazie bottoncino oh mi serviva un bottone per la camicia e questi dadi qui li scarti ora che dadi li sono rimasti un blu e un giallo no però aspetta aspetta amore stai mischiando dadi di uno di l'altro di uno ma era questo ah scusa vai gli hai rimasto ora un blu e un giallo si e non ci può fare nulla ti muovi li puoi usare per muoverti o li puoi usare per regalarmele a me ma io ce l'ho a dadi tanto mi servono a nulla ma chi ti regala niente e alla scartali non ci può fare nient'altro e se andassi vicino a qua e gli passo un po' di imbottitura a lei poveri eh no passo l'imbottitura e poi muoio no è vero si lo puoi fare allora fai una cosa devi lo puoi fare lo puoi fare è vero errore mio errore mio puoi passare l'imbottitura a un altro stoffino brava così almeno lo rimetto su posso attaccare però mi hai fatto scartare i miei dadi allora scartare un dado di qualsiasi colore ok quindi ne puoi scartare uno o più scartare un dado di qualsiasi colore e prendi una dalle tue imbottiture e lo dai a lui eh però è vero colpa mia che ti ho fatto saltare un turno così vabbè fallora dai almeno lui si riprende però no non lo fare riprendere ora perché se no ne ritocca un'altra volta appunto cosa fai no ce l'ho i miei dadi vabbè niente per ora eh però se gli scarti fallo uguale allora scartale tutte e due ti faccio vedere gli scarti le ridai due di imbottitura bianca e lui si rialza sì però ce l'ho i dadi poteva attaccare eh non ci ho pensato errore mio quindi l'errore l'errore non è di mia moglie ma ora tocca a flops che ha già fatto i mostri muovono perché sono più dadi e tutta aspetta ti preoccupare ti faccio vince allora quello lì è quello qualcosa esagonale che ha bisogna tirare dadi per i mostri quindi questo il boss è un due ma il boss è morto ah già il boss è morto qui non deve tirare i dadi no 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 quindi lui è un quattro e un quattro è un tichettare ti fa quattro danni ok steso colpa mia va bene tiè facciamo pace ecco poi questo attacca Stitch il problema è perché Stitch non ha dadi in difesa perché non ancora ha fatto il mio turno quindi ma picchia bene spero che fai picchiare i flops no perché devi sempre picchiare i miei 3 4 sì ma il problema è che a me mi stende con 4 prende i te i danni ma amore anche a me mi stende ma sì ma te c'hai il dado per difenderti dai le prendo io guarda che se poi mi stende anche questo ti rispura a cazzo di un mazza 5 non è subito nemmeno un danno e lo rimetti lì ora tocca a me i cometi faccia di un po' allora tocca a me 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 allora prima di tutto ma guarda che galantuomo che sono prendo due dadi li tolgo e do a lui due perché? perché sì vai dagli un po' di imbottitura poverino che sta soffrendo le pene dell'inferno te adora è una femminuccia no come una femminuccia è uno sacchietto femmina poi lampi che era questo attacca questo e questo c'ha di difesa e su cazzi c'hanno tutte e due 5 mandamela buona vai uno niente le ha fatto le pernacchie fine e non c'ho io non metto mai i dadi in difesa perché sono grossissimo ora mi metto un dado in difesa giallo con Stitch sì non ti sa mai non può dare un dado suo per metterlo in difesa da un suo amico poi ora ti faccio vedere poi il verde ok che non mi serve nulla lo do a lampi perché tanto cosa lo usa fa sono corpo a corpo e poi prova a riattaccare e dai e fammi un 5 e anche vi è rifallita quindi i mostri ci attaccano e ancora una volta questo attacca Stitch che gli fa 4 danni quindi uno uno passa vabbè per uno ci può anche stare e quell'altro attacca te e chi era quello con la forma esagonale attacca sempre lui quindi gli fa 4 danni e tira perfetto nessun danno nuovo turno se riparte tutto rifai tutto il sacchetto e questa volta i dadi neri si ritolgono tutti ecco tieni ti adoro atti sono tu baby baby il mio stai zitto allora primi 3 eccoci sempre 3 giù 3 come sono belle le miniature bellissime e poi amore ma tutte le bottiglure le prendete scusami e beh disse la begola allora tocca a me nuovo turno tocca a te te adora la tua vendetta questa porca miseria devi scoppiare lo stoccaccio di tante zampe due dadi rossi difesa 6 5 5 5 5 sbloc tieni poi questi li butto si poi turno potresti attaccare però no con quelli no quindi o li dà qualcuno no se me ne vuoi regalare uno a me pestice puu tieni vai e quell'altro lo scarti ok allora te adora o mai ha dato si flopete flopete non armi da colpa a colpa no semplici si vai 7 8 quindi loro due sono prenditi un coso un bottoncino ok andiamo avanti a leggere i tanti zampe reagirono all'attacco ma di malavoglia sembravano più interessate a rubacchiare oggetti a caso nella cameretta non lasciateli prendere niente dichiarò te adora mi sa che questa te adora è capogruppo di loro degli stoffini eh ma due tante zampe scivolarono sotto il letto trasportando una spazzola e un unico calzettino i pupazzi lottarono con valore ma non poterono impedire che svariate cianfrusaglie fossero sottratte e portate nel bagliore viola flops vide un tante zampe che trascinava via la dorata coperta per i neonati che la bimba usava fin da piccola quella fu l'ultima goccia aspetta un attimino oh no non pensarci neanche gridò e si tuffò in avanti afferrando un angolo della coperta ma il tante zampe scomparve sotto al letto e all'improvviso flops si ritrovò trascinata sul pavimento a velocità pericolosa stitch agguantò le gambe di flops e anche te all'ampi si lanciarono sulla coglilletta di pezza lottando tutti insieme i quattro pupazzi riuscirono ad aggrapparsi alla coperta l'una all'altro e a una delle gambe del letto da bimba grande ottimo lavoro Stoffini di caro stitch e ora tiratela indietro a fatica lentamente cominciarono a estrarre la coperta dal bagliore viola ce la facciamo e scalamotte ad ora ci stiamo riuscendo ma in quel momento ci fu un forte strattone come se una forza invisibile dentro il bagliore si fosse messa a contrastarli e proprio in quel momento l'ampi perse la presa sul letto ebbe solo il tempo di sussurrare oh no prima che i quattro pupazzi venissero trascinati nel viola ignoto che stava sotto il letto a quel punto la luce svanì la cameretta fu di nuovo buia e silenziosa e sul lettone da bimba grande la dolce bambina si abbracciò forte e rabbrividì nel sonno andate a pagina 7 sezione 7 e 1 questa è la nuova mappa di gioco e ora come vedete la nuova mappa ha un nuovo setup e addirittura ci sono varie opzioni in più sempre per la fattispecie i mostri i giocatori inizieranno qui gli stoffini i mostri partiranno sempre dove c'è il bullone queste carte sono carte indagine ma indagine di storia ok che a seconda della storia quando va qui ti fa fare un'azione particolare e queste sono delle sono delle carte smarrito che quando si andrà a fare un'azione su queste carte smarrito si dovrà pescare da qui che di solito sono giocattoli dispersi che chiedono aiuto ragazzi si conclude qui la prima partita nella prossima giocheremo la seconda avventura che si chiamerà il posto che sta al di là vi faccio vedere soltanto una cosa questo gioco come vi ho detto nella recensione è praticamente un libro game perché poi vedrete che a seconda delle scelte che faremo la storia prenderà certi tipi di evoluzioni di strade ah qui si può cercare una delle azioni che puoi fare solo con il dado giallo o con il dado rosa viola lì cos'è se lo converti in dado giallo se tiri e fai 4 più peschi una carta dal mazzo degli oggetti guardate qua giù 87 ma stiamo scherzando amore questo gioco è infinito cioè guardate la figata 51 guardate di qua 71 cioè va avanti un casino io penso che ci vorranno dei mesi a finire tutto ma la cosa bella è che non è che uno dice però è sfiancante uno deve giocare tutto ma come fai no perché a seconda delle scelte che fai in alcune avventure come le finisci se la vinci se la perdi o se prendi un'altra scelta magari ti dice di andare da un'altra parte quindi la storia cambia sempre ragazzi sto gioco è una gran figata questo mazzo qua giù della storia che non dovete assolutamente mai mischiare è un po' legacy cosa vuol dire che è normale che la prima volta che lo giocherete è più bello andarla a pescare e vedere cosa succede però tranquilli anche una volta che saprete cosa c'è qui dentro la storia può cambiare nel corso dell'avventura quindi secondo me la rigiocabilità è molto alta e poi disse bene che lo disse una volta che l'avete finito vi sfido a riavere voglia di farlo da capo perché insomma è bello lungo come gioco non complesso ma lungo comunque dai abbiamo vinto la prima avventura io direi che ce la siamo guadagnato il titolo di Stoffini ragazzi prossimamente vedrete un altro video gameplay dove faremo ovviamente la seconda avventura che è il posto che sta al di là ovviamente però ci dobbiamo mettere da parte tutte le carte come le abbiamo messe eccetera no 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 ogni volta il setup riparte riparte tutto quanto quindi non vale se io magari ho subito tre ferite eccetera si resetta tutto bisogna rimettere tutto a posto tramite i dadi custoditi e non so se anche le armi comunque tanto c'è il video lo vediamo la prossima volta comunque vedremo porteremo avanti l'avventura insomma perché ci è piaciuto è veramente ragazzi è molto divertente è un gioco che vale oro fidatevi e per tutti non è solo per bambini e poi le miniature sono di alta qualità ciao ragazzi alla prossima grazie a tutti